Buongiorno genitori, buongiorno bambini, benvenuti a vedere questo secondo video sulla creazione. In questo video cercherò di ripetere quello che abbiamo fatto durante gli incontri dei gruppi di catechismo domenica scorsa e mercoledì scorso. Questo argomento è così importante che è importante che alcune cose vengano ripetute anche più volte. Prima di passare all'argomento di questo secondo video voglio ricordarvi che per scoprire la verità sulla creazione è necessario porci due domande. La domanda a chi e la domanda a come. Alla domanda come ha risposto la scienza, come è stata, come è avvenuta la creazione, ha risposto la scienza attraverso la teoria del Big Ben, che fu formulata nel 1931 da un prete gesuita e scienziato, fisico, astronomo, amico di Albert Einstein, dal nome di George Lemaitre. Alla domanda chi ha creato l'uomo e il mondo risponde la fede attraverso la religione e in modo particolare ci racconta la creazione ad opera di Dio, è Dio che ha messo in movimento tutta una serie di processi, di eventi, che poi hanno portato, evolvendo, hanno portato al creato così come lo vediamo noi oggi, è Dio che ha messo in movimento il Big Ben e questo è raccontato in un modo particolarissimo nella Bibbia, nel primo libro della Bibbia, che è il libro della Genesi. Vi ricordo che la Bibbia è stata scritta per gli ebrei, per gli ebrei, quindi è un libro che parla, specialmente il libro della Genesi, che parla agli ebrei. È importante ricordarci questa cosa e per capire bene quello che la Bibbia ci dice, dobbiamo immaginarci il libro della Genesi, ma la Bibbia in genere, come un grande forziere, uno scrigno, che contiene delle cose preziosissime, però per poter godere di queste cose, per poterle prendere, per poterle guardare, per poterle ammirare, per poterci stupire di quello che c'è dentro lo scrigno, bisogna aprirlo e per aprirlo c'è bisogno di alcune chiavi. Già negli incontri precedenti e nel video precedente, ho tentato di regalarvi una chiave che è quella dei numeri, dei giorni. Abbiamo capito che i giorni non sono dei giorni reali, ma ci fanno capire in modo particolare che c'è un tempo che Dio ha dedicato alla creazione e un tempo che Dio ha dedicato alla ricreazione. Per approfondirlo, se non lo avete visto, andatevi a guardare il libro precedente. Bene, allora adesso mettete in pausa questo video, andate a prendere la Bibbia che avete a casa, trovatela, cercatela, aprite le prime pagine e leggete solo il primo capitolo del libro della Genesi, non è molto lungo da leggere, e poi i quattro versetti del capitolo 2. Magari vi fate aiutare da papà e mamma a seguire il segno. Ricordatevi che nella Bibbia, per trovare una cosa che sta scritta là dentro, non si dice vai a pagina 30, perché ci sono Bibbie di diversa grandezza, di diverso spessore, quindi magari la pagina 30 di una Bibbia corrisponde a chissà che cosa in un'altra Bibbia più piccola. Capitolo 1, quindi versetti dall'1, ci sono i numeretti, fino alla fine del capitolo 1, e poi capitolo 2 fino al versetto 4. Quando avete letto, rimandate avanti questo video. Bene, spero che abbiate letto quello che è scritto qua. Magari non riuscite a distinguerlo, vedete, io adesso mi ci metto in mezzo, guardate, perché così lascio libero il campo a destra per altre cose. Allora, questo qui è il testo del primo capitolo e dei primi versetti del capitolo 2. Forse avete notato, prima di tutto una cosa, che nella prima parte l'uomo compare nella creazione insieme con gli animali, e nella seconda parte invece compare per primo, Dio crea per primo l'uomo. Perché questo primo ed ultimo? Ma allora si contraddice quello che è scritto sotto in verde con quello che è scritto sotto in rosso? No, vi ho detto che la Bibbia parla in un modo particolare, è un libro poetico, è un libro anche storico, ma non è un libro storico, è un libro che parla in un modo particolarissimo, un po' come parlano le storie che dicono cose vere, concetti veri, usando delle figure. E allora, che cosa vuol dire che l'uomo è stato creato per primo, per ultimo? Vuol dire questo, che nel progetto di Dio, nella mente di Dio, e quando ha creato l'uomo per primo, lo ha creato per primo perché è la prima cosa che Dio aveva in mente, ha creato tutto poi ciò che circonda l'uomo per lui, per l'uomo, e lo ha creato per ultimo perché per ultimo vuol dire il più perfetto, il più bello, per fare un paragone, insomma, quando uno mangia una bella cosa, diceva l'altro giorno Emanuele, dice io quando mangio la carbonara mi metto da parte i pezzettini di guanciale e l'uovo perché mi piace di più per mangiarlo per ultimo, è un po' questo il concetto, no? Le cose belle si mettono per ultime e questo è il grande significato, la prima chiave che vi consegno oggi è capire che nella mente di Dio l'uomo è stato creato perché è la cosa più più bella, più fantastica, è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, Dio ha creato l'uomo somigliante a se stesso, è come se si fosse messo davanti a uno specchio e avrebbe detto ah questa qui è la mia immagine, la mia immagine adesso guardando questa immagine creo l'uomo, bella questa cosa, è una cosa fantastica, no? Ma non solo ci dice questo, ci dice che l'uomo, il fatto che sia con gli animali, creato con gli animali e poi creato per primo, ci dice che l'uomo è un animale, è fatto di carne e infatti l'uomo Adam, Adamo vuol dire terroso, fangoso, terrone quasi, no? Fatto con la terra e l'uomo è fatto di carne ma al tempo stesso è anche spirituale perché, e non è solo terra, perché Dio gli ha dato, gli ha dato lo spirito e la stessa cosa per Eva, no? Nel primo capitolo Eva è stata creata di immagine e somiglianza di Dio e nel secondo capitolo viene detto che non è bene che l'uomo sia solo, non è bene l'uomo sia solo prima ha creato gli animali e negli animali non ci poteva essere un animale che poteva stare insieme con l'uomo garantendogli di essere come lui, no? E vediamo un pochettino quest'altra chiave importantissima che ci può aiutare mi sa che mi devo spostare, sì mi sposto di nuovo perché se no non vedete quello che ho scritto l'uomo è fatto di carne, l'abbiamo detto, creato con gli animali ma l'uomo è spirituale creato a immagine e somiglianza di Dio guardate che bella questa immagine, guardate che bella questa immagine che ha dipinto Michelangelo sul tetto della Cappella Sistina la creazione dell'uomo guardate Dio che guarda intensamente Adamo e Adamo che guarda Dio come per dire grazie che mi hai creato grazie che mi hai fatto e Dio ha questo sguardo d'amore grandissimo nei suoi confronti ecco, ti ho fatto a mia immagine in somiglianza bellissima questa qui allora torniamo a noi, torniamo alle nostre chiavi e andiamo un pochino avanti l'altra chiave è la costola Dio crea Eva addormenta l'uomo e poi crea Eva e il libro della Genesi ci dice la tira fuori da una costola ma dobbiamo ricordarci appunto che la Bibbia è scritta in ebraico, il libro della Genesi e zela significa costola come poi noi troviamo tradotto ma significa anche fianco quindi che vuol dire questo? vuol dire che Dio crea la donna dal fianco di Adamo perché la crea dal fianco? guardate che bella questa immagine questo mosaico dove si vede Dio che crea seduto sul mondo e Adamo che dorme e Eva che viene fuori dal fianco di Adamo anche qua sempre risposto se no non la vedete bene sempre nella cappella Sestina guardate che viene dal fianco di Adamo che vuol dire questa cosa qua? e come che vuol dire che lo addormentò? allora che lo addormentò Dio dice dice un rabbino che Dio ha addormentato l'uomo perché al suo risveglio trovasse la donna e non pensasse di averla fatta lui ancora è bello quello che insegnano i rabbini cioè i maestri ebrei ebrei ai bambini quando domandano ma perché ma perché Dio non ha creato la donna dalla testa dell'uomo Dio non ha creato la donna dalla testa dell'uomo perché la donna non dominasse l'uomo cioè non fosse a lui superiore e perché Dio non l'ha creata dai piedi perché l'uomo non dominasse la donna ma perché la donna e l'uomo camminassero nella vita fianco a fianco con pari dignità in modo che l'uno possa essere il complemento dell'altro non uno che comanda e l'altro che è sottomesso questa è una cosa bellissima questa è una cosa fantastica questa qui la donna è l'unico essere che sta a fianco dell'uomo gli animali stanno ai piedi dell'uomo stanno ai piedi dell'uomo uno non si sognerebbe mai di di trattare il proprio cane il proprio gatto al pari di un uomo che ne so tornate a casa da scuola avete preso magari un brutto voto prendete il vostro cane sai oggi ho preso trea la verifica e non vi aspettate che lui vi consoli dicendovi ah ma guarda non ti preoccupare eccetera eccetera no quindi gli animali sono creati ai piedi dell'uomo e come gli angeli per esempio sono creati sopra l'uomo sulla al di sopra dell'uomo quindi l'uomo non è che si mette a chiacchierare con il proprio angelo a confidare i propri segreti al proprio angelo al proprio angelo uno rivolgerà una preghiera è bella la preghiera dell'angelo di Dio no però dov'è che l'uomo trova un compagno una compagna nella donna e viceversa andiamo avanti vediamo un po' un'altra chiave è questa importante il significato in ebraico del nome che è stato dato ad Eva è Zoe che vuol dire colei che dà la vita colei che dà la vita se ci alziamo sopra ci alziamo la nostra maglietta tutti quanti abbiamo un ombelico e questo sta a significare che siamo tutti figli ci è stata data consegnata alimentata costruita la vita perché siamo stati collegati per nove mesi un pochino di più che forse un po' di meno sette mesi otto mesi con un tubo alla nostra mamma e attraverso quel tubo passavano gli alimenti passavano le cose che ci hanno fatto diventare grandi eccetera ecco il significato del nome Eva diceva ma Adamo ed Eva sono veramente esistiti come il primo uomo la prima donna allora Adamo ed Eva sono due simboli che stanno a rappresentare l'umanità la prima umanità quella che è stata creata e che viveva nel paradiso terrestre che viveva in armonia con il creato con Dio il significato del termine Adamo l'abbiamo detto prima fatto dalla terra il significato del termine Eva Zoe colei che dà la vita allora se noi facessimo un grafico guardate con questi numeri qua su in alto c'è io e sono io se tu che stai guardando questo video i tuoi amici eccetera eccetera poi sotto ci mettiamo due che cosa sono due sono papà e mamma e poi quattro sono i nonni no e poi otto e poi sedici via 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 c'è una miriade di persone che sono vissute stanno vivendo sono nate prima di noi qualcuno sarà anche già morto eccetera però hanno in comune una cosa hanno tutti trasmesso la vita fino ad arrivare a me fino ad arrivare a te magari avranno litigato magari si saranno separati magari non ci parliamo più oppure ancora siamo insieme eccetera eccetera ma hanno tutti trasmesso la vita perché questo è il grande è il grande messaggio che ci viene dato siamo fatti per trasmettere la vita e per godere della vita che abbiamo ricevuto sarebbe bello se ciascuno di voi facesse un bellissimo si chiama albero genealogico dove magari potete partire da voi il papà e la mamma il papà e la mamma della mamma il papà e la mamma del papà e così via 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 ingrandendolo e magari potrebbe essere un bellissimo un bellissimo disegno quando nasce un altro bambino lo segniamo un cuginetto una cuginetta in modo che abbiamo in mente questo che non siamo stati creati da soli ma siamo stati creati in un popolo in una grande famiglia all'interno della quale si è trasmessa la vita ecco queste sono le chiavi e il significato di alcune cose preziose che abbiamo trovato all'interno della sagra scrittura un'altra cosa che vi chiederei di fare oltre all'albero genealogico è di fare un bellissimo disegno della creazione e poi mandarmelo portarlo a cadechismo mandarlo per whatsapp se ancora non potete venire eccetera eccetera bene vi saluto a tutti al prossimo video ciao ciao ciao